Musica Buonasera e bentrovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura La cronaca disoccupato sulla carta, in realtà però era uno spacciatore, è stato arrestato dalla squadra mobile di Arezzo Vediamo il servizio È stato trovato con oltre 200 grammi di cocaina e più di 7 mila euro in contanti, provento a dispaccio Secondo gli inquirenti per questo è stato arrestato Si tratta di un cittadino albanese di 28 anni senza precedenti penali Fermato durante un'operazione antidroga dagli uomini della squadra mobile della questura di Arezzo diretti da Sergio Leo Lo scorso giovedì il 28enne si aggirava tra le vie di Arezzo per consegnare in vari punti della città Lo stupefacente, gli agenti dopo aver accertato una cessione di una dose lo hanno fermato all'altezza di un autocentro commerciale Hanno perquisito l'auto su cui viaggiava presa a noleggio e lì hanno ritrovato 16 dosi di cocaina pronte per essere vendute Assieme a circa 700 euro in contanti E' scattata la perquisizione all'abitazione nella Valdichiana Aretina Qui il 28enne che risulta disoccupato aveva nascosto altri 6.600 euro in contanti In un appezzamento di terreno nel retro dell'abitazione Gli investigatori hanno ritrovato oltre 80 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio Altre 14 contenenti un quantitativo più consistente di stupefacente E 50 grammi di cocaina allo stato grezzo Ritrovati anche tre bilancini elettrici di precisione L'uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato Provvedimento convalidato dall'autorità giudiziaria Che poi applicato nei confronti del 28enne La misura cautelare degli arresti domiciliari Svolta sul caso di Marco Mazzeschi 44enne l'imprenditore aretino deceduto a Dubai Nella notte fra il 29 e il 30 ottobre dello scorso anno L'autopsia che si è svolta in Italia Su disposizione della procura di Arezzo Attribuisce a cause naturali la morte dell'aretino Per la vicenda la fidanzata Arianna Paperini Era stata indagata per omicidio per etere intenzionale Ora il sostituto procuratore Emanuele Greco Titolare del fascicolo Deve decidere se disporre di ulteriori accertamenti Oppure chiedere l'archiviazione Ancora cronaca Rubava dalle auto parcheggiate in piano centro Beccato dagli agenti della volante Denunciato a piede libero uno straniero irregolare con precedenti Aveva spaccato i finestrini di almeno due vetture Arraffando vari oggetti Tra cui un giaccone da donna Vediamo il servizio Ho lasciato la macchina via Margheritone Alle 10 mi chiamo la municipale Ma mi dice che hanno spaccato il vetro la macchina Prosegue la scia di furti nella centro aretino Gli ultimi colpi messi a segno ieri sera in via Margheritone Dove sono state prese di mira alcune auto Questa mattina ancora sull'asfalto I segni dei finestrini mandati in frantumi Il ladro ha arraffato alcuni oggetti Trovati all'interno degli abitacoli Compreso un giaccone da donna Ora le case sono chiuse e ti entrano in casa Anche la macchina Macchina chiusa Dici non lasciare le borse Ma anche il cappotto Un cappotto che era anche tutto rigirato Non è che era lasciato per bene Dici che dentro si vede che è un cappotto per bene Rigirato Ti spaccano il vetro E ti rovinano un po' la serata La giornata E più con i prezzi che abbiamo ora Si può pagare anche il vetro Gli agenti della volante di Arezzo Hanno sorpreso il ladro Che ha tentato di dileguarsi Senza dare nell'occhio In flagranza di reato E lo hanno identificato Si tratta di un cittadino straniero Irregolare sul territorio italiano Già gravato di alcuni precedenti specifici L'area furtiva ritrovata E' stata posta sotto sequestro Assieme ad un cacciavite utilizzato Per rompere i vetri delle auto Per lui è scattata la denuncia A piede libero Questi ultimi colpi Seguono una settimana davvero nera Per i commercianti a retini I ladri nei giorni scorsi Avevano fatto visita in una profumeria Da un ottico Ed infine da un rivenditore di bici In tutti e tre casi erano scomparsi Con il bottino Approfittando di momenti di distrazione Degli addetti alle vendite E adesso torniamo a parlare Della vicenda della donna Che si è fatta chiudere le tube Ma è rimasta comunque incinta La ASL E' stata condannata a mantenere la bimba Vediamo il servizio Nonostante si fosse sottoposta All'intervento per la chiusura delle tube Dopo due anni E' rimasta di nuovo incinta Adesso la ASL La Toscana Sud-Est E' stata condannata A risarcire i due genitori Protagonisti della vicenda I fatti risalgono al 2011 Quando la donna In occasione del terzo parto Aveva richiesto Di ricorrere alla contraccezione chirurgica Per scongiurare una nuova gravidanza Che sarebbe stata indesiderata L'intervento fu eseguito All'ospedale di Grosseto Ma nel 2014 La donna ha dato alla luce La quarta figlia Adesso nove anni dopo Dopo la nascita della bambina L'asla toscana sud-est Che era stata citata In giudizio dalla famiglia E' stata condannata Dal tribunale Aretino A risarcire la coppia di genitori La sentenza stabilisce Che l'azienda sanitaria Dovrà provvedere Al mantenimento della figlia Nata dopo la chiusura delle tube Sino al compimento Del suo venticinquesimo anno La famiglia riceverà 450 euro al mese Per 135.000 euro complessivi Secondo il tribunale di Arezzo Che si è pronunciato Essendo Aretina La sede legale Dell'asla toscana sud-est Alla paziente rimasta incinta Nonostante l'intervento Di sterilizzazione tubarica Non può essere richiesto Di ricorrere all'interruzione Volontaria della gravidanza Per evitare il danno Conseguente agli oneri Del mantenimento del figlio Perché la scelta Di interrompere la gravidanza È una scelta personalissima Della gestante Che involve considerazioni Di carattere morale e religioso Non scevra Da un notevolissimo carico Di sofferenza psicologica L'asla nel frattempo Sta valutando Se fare ricorso in appello E chiedere la sospensione Dell'esecuzione Da 135.000 euro Da pagare alla coppia Che ha avviato il processo Per la vicenda Della gattara di Anghiari Questa mattina C'è stato un incontro Con il comune Vediamo Si aprono spiragli Per il gattile di Anghiari Questa mattina Si è svolta Una manifestazione A sostegno Della struttura In piazza del popolo Per scongiurare La demolizione Delle casette Che ospitano Da sei anni Decine di gatti Senza una famiglia Lo spiraglio Arriva dal comune Che ha incontrato E ascoltato La delegazione Guidata Dalla presidente Dell'associazione Ollus La gattara Eleonora Iacono Che gestisce La struttura Faremo di tutto Per poter metterci In regola E uscire Da questa situazione Ha sottolineato La presidente Sono tante Le associazioni E le volontarie Disposte A fare una colletta Per un eventuale ricorso Al TAR Ma non lo riteniamo giusto Un ricorso Che potrebbe costare Ben 6.000 euro Soldi Che potrebbero invece Essere spesi Per aiutare I nostri amici A quattro zampe Per cibo Cure e sterilizzazioni La Iacono Gestisce il cattile Da 6 anni Si lotta Per la tutela E i diritti Degli animali Ha spiegato la presidente Esseri senzienti Che hanno diritto A una vita unica E dignitosa Con noi In questa causa Si sono schierati Animalisti Volontari Associazioni E persone Da tutta Italia Tante sono Le telefonate Di solidarietà E i messaggi Di incoraggiamento Per i nostri gatti Dalla Valtiberina Alla Valdichiana Perché sono Centole candeline Della castiglionese Virginia Domini Che diventa Dopo la nonna Irma Agnelli La seconda centenaria Della città Della Valdichiana A portarle il saluto Della comunità Ci ha pensato Il sindaco Mario Agnelli Che ha partecipato Alla piccola festicciola Organizzata per lei Dalla famiglia E torniamo ad Arezzo Fine settimana L'insegna Del reciclo E del reuso Torna infatti Il grande mercato Delle pulci Ad Arezzo Fiere E congressi Il servizio Chi cerca trova Forse è davvero questo Lo spirito Del mercatino Delle pulci Ancora una volta Un successo Dal punto di vista Degli espositori Oltre 500 Soprattutto sono Svuota Soffitte Dal punto di vista Invece Dei visitatori Pensate che c'è Chi arriva Anche da città europee Abbiamo risposto proprio Ieri l'altro A una belga Che voleva essere sicura Che l'evento ci fosse Perché doveva prendere L'aereo Quindi Per noi Questa è stata Una cosa incredibile Nonostante Sapevamo Dell'arrivo Degli stranieri Perché le abbiamo Intercettati anche In passato In reception Però È diventato anche questo Un nome E un bacino Importantissimo Per chi lo fa Di lavoro È un appassionato Quindi c'è chi si sposta Da città europee Per venire a dare Eh beh sì Perché è un maxi Magazzino Per trovare Le cose più belle Dell'usato Perché poi Non ci scordiamo Che noi Stiamo cercando Di promuovere Veramente Il valore Dell'usato Della seconda mano Insomma Del riciclo E riuso È la seconda volta Sinceramente Però Sì Non abbiamo mai visto Tanta gente così Il motivo Poi ovviamente Senza entrare troppo Nei particolari Ma una fonte di guadagno In più Il modo per sbarazzarsi Di cose che non si usa No Più che altro Per sbarazzarsi Di tante cose Perché poi Dopo nelle case Accumuliamo tante Di quelle cose Che poi Non usiamo più Quindi magari Metterle in vendita Per poi Un minimo guadagno Ma così Almeno altre persone Ne possono suffruire Certo sì Alla fine Lo scopo è questo No Venire qua E cercare qualcosa Che può essere vintage Che può essere di valore O comunque Delle occasioni L'ambiente è molto grande Insomma Siamo contenti Che abbia attirato L'attenzione Si spera che attiri L'attenzione anche Di chi viene ad acquistare Le cose più curiose Che vi chiedono Cosa c'è? Ma in realtà Devo dire Che passano E controllano Però non fanno Tante domande C'è una parte Più divertente Più curiosa Per lei Il fatto di preparare Di allestire È simpatico Insomma Poi si vede Un sacco di gente Giusto proprio Per passare una giornata diversa Che cosa si cerca In mercatini come questi? Eh un po' di tutto Si cerca il prezzo Prima di tutto E poi Le cose di una volta Ci piacciono Ci hanno Il loro fascino C'è la qualità Nelle cose di una volta Cosa che magari In Italy Che è importante Perché adesso Non si trova più Tutti cinesi Tutti Quindi Qua ancora qualcosa Di carino si trova Insomma Beh veramente Qualche occasione Buona Qualche insomma Qualche affarino Insomma Qualcosa che manca Sempre a casa Penso che Si compra bene Oddio È mezz'ora Che so qui È molto interessante Mi sembra che Meglio dell'altra volta Queste qua Sono delle macchine Calcolatrici Abbastanza vecchie Quando ancora Non c'era l'energia elettrica Quindi erano funzionanti Solamente con la manovella Per fare Per fare Tutti i conti Tutti I vari scontrini Niente Tutta questa roba Abbastanza vecchia C'è qualcosa di funzionante Qualcosa di non funzionante Anche perché a un certo punto Devo liberare spazio in casa Questo è il mercatino Dello svuota soffitte Io svuoto i scaffali Di casa Così almeno faccio un po' di spazio Senti Che cosa chiedono di più I clienti Insomma Che cosa Che cosa vi chiedono di più Allora Principalmente chiedono Per quanto riguarda Il collezionismo d'epoca Quindi artefatti Per quanto riguarda L'agricoltura Oppure per quanto riguarda L'ambito Dell'artigianato Oppure altri Diciamo particolari Sempre inerenti In questo contesto Se no Vengono anche a curiosare Per quanto riguarda L'ambito Della Casa Quindi I profumi I videogiochi Oppure anche I pupazzi Quelli vanno molto Diciamo Di moda Se così si può definire Comunque sì Sono questi Diciamo Gli articoli Al top Che chiedono Le persone Adesso la pagina Degli spettacoli Successo al Petrarca Per il concerto Della soprano russo Anna Netrebko Scongiurate Anche le proteste Fuori dal teatro Vediamo L'artista russa Anna Netrebko Ha incantato Il pubblico Del teatro Petrarca Ad Arezzo Con la sua splendida voce Un concerto previsto Nel calendario Organizzato Dalla fondazione Guido D'Arezzo Che aveva suscitato Non poche polemiche In città L'artista È infatti Considerata Una sostenitrice Del regime di Putin Posizione Dalla quale Anna Netrebko Ha sempre preso Le distanze Il 7 febbraio Giorno fissato Originariamente Per il concerto C'era stata Una manifestazione In piazza grande Ad Arezzo Contro la presenza Dell'artista In città Ieri Nessun esponente Della comunità Ucraina A protestare Mentre sono apparsi Alcuni cartelli A sostegno Dell'artista Il teatro Era blindato Con forze Dell'ordine Presenti In ogni angolo Del resto A pochi giorni Dall'anniversario Dell'invasione Russa In Ucraina La soglia Di attenzione È comprensibilmente Alta Anche se si tratta Di un appuntamento Culturale Grazie a Anna Hanno scritto Nei cartelli L'arte unisce E non discrimina L'artista 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 Ancora un appuntamento Per la stagione Di prosa Del teatro Virginian In scena Coppia aperta Quasi spalancata Che riporta Sulle scene La celebre Favola Tragicomica Di Dario Fo E Franca Rami Un classico Tidario Fo E Franca Rami Sul palco Del teatro Virginian Di Arezzo Coppia aperta Quasi spalancata È il titolo Dello spettacolo Con le musiche Dal vivo Di Michele Farragni E la regia Di Silvia Giulia Mendola Non fare Pesserie Antonia Esci di lì È il titolo Per eccellenza Estremamente Popolare Che schiaccia Veramente un occhio Al pubblico Tra l'altro Nella nostra rappresentazione Con la regia Appunto Di Silvia Giulia Mendola C'è veramente Molta interazione Col pubblico Ci sono delle pause Volute Dove Diciamo La ricerca Del dialogo Col pubblico È molto importante Per noi Antonio E fedeltà Mamma Basta Voi due Non potete andare avanti Così Finirà che mi ammazzerete Dovete trovare Una soluzione E mi state qualcosa Di diverso Allora Innanzitutto Tu non puoi continuare a vivere Con una penice Del tappo Devi trovare Una tua autonomia Il papà Badone Tu Non te rifica Ma perché giusto Stano Umano Ti trovi un altro uomo Perché certe cose Non cambiano mai Come gli archetipi Che ci sono Dall'antica Grecia E quindi Anche il tradimento È sempre un argomento Che Ahimè O non ahimè Chissà Poi adesso Il gender fluid Forse non la penserebbe così Adesso ci sono tante cose nuove Oltre alla coppia aperta Però insomma È ancora moderno È immortale Assolutamente Senti Ma scusa La domanda è indiscreta Cioè Vete già stati insieme Nel senso Voglio dire Avete già Coppia No Avete già Cosa Capito No Non capito Cosa Avete già fatto l'amore E pronunciando questa domanda Lui il marito spregiudicato E sciolto Vai vai Facciamo la coppia aperta È andato di nuovo In apnea E Pro 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 Questa Non c'è più sogno E sarà intitolata La memoria Del dottor Roberto Lorentini Una delle due Vittime aretine Della strage Dell'Eisel L'aula di biomedicina Del liceo scientifico Redi di Arezzo Lorentini Studente del liceo Aretino È stato insignito Della medaglia d'argento Al valore civile Per aver perso la vita Nella tragica serata Di Bruxelles Nel tentativo Di prestare soccorso Ai feriti L'idea Della intitolazione Nasce dal fatto Che nel 2023 Ricorrono I 50 anni Della maturità Della classe 54 Quella appunto Di appartenenza Di Roberto Lorentini La cerimonia Si terrà Mercoledì 22 Febbraio Alle ore 11 E sarà ancora Una domenica Di carnevale Vediamo dove Sarà ancora Un weekend A tutto carnevale Domenica E divertimento Con giochi E musica E collaboratori All'insegna Del circo E della giocoleria Torna Anche l'appuntamento In Val di Chiana Con il carnevale Più antico D'Italia Quello Di Foiano Della Chiana Giunto Alla sua Terza settimana Consecutiva Tra gli appuntamenti Attesi C'è anche Correggiocondo La gara podistica In maschera Che ormai È diventato Un punto di riferimento Per i tanti appassionati Tornerà Alla sfilata Pomeridiana Dei quattro Mastodontici Carri allegorici Realizzati dagli artisti Dei cantieri cittadini Il cantiere degli azzurri Si presenta Con il carro Dal titolo Il monello Bombolo invece Propone l'opera La bestia dentro In ottamboli Porta in scena Il carro Dal titolo Diverso da chi Mentre il cantiere rustici Con amore e guerra Sale l'attesa Anche per la 53esima edizione Dello storico Carnevale di Anghiari Con la sfilata Dei carri allegorici Che domenica 19 febbraio Alle ore 15 Prenderà il via Dal campo alla fiera Per animare la strada Di tutto il borgo Creando occasioni Di divertimento e festa Per grandi e bambini Martedì prossimo Invece L'appuntamento Festoso Si sposterà in piazza Sant'Agostino Ad Arezzo Coriandoli Maschere Trenino Musica e divertimento Per festeggiare L'ultimo di carnevale Grazie ai commercianti Della centralissima Vitale piazza A partire dalle 15.30 Le bambine e i bambini Potranno trascorrere Serene ore All'insegna del divertimento Salendo sui vagoni Dell'intramontabile trenino Del carnevale Dell'Orciolaia La festa Per i più piccoli Proseguirà Fino alle 19 E sarà l'occasione Per ammirare Le maschere Disney Attesa anche La partecipazione Delle spettacolari Maschere barocche Del carnevale Dei figli di Bucco Dalle ore 21 Fino a mezzanotte Piazza Sant'Agostino Si muoverà A ritmo di samba Divertendosi E facendo divertire E adesso passiamo Alla pagina sportiva Partita cruciale Per la stagione Amaranto Con la squadra Tornata in testa Al campionato Domani se la vedrà Con il Givi Borgo Ascoltiamo L'allenatore Amaranto Alla vigilia Della partita E sono passati Due terzi Di campionato Momento Determinante Di solito Dopo due terzi Di campionato C'è un'indicazione Ben precisa Però Che sia Il passaggio Determinante Lo spero E me l'auguro Che ci creda Totalmente Direi Dopo due terzi Di campionato L'indicazione Chiara E sicura E che c'è Tre squadre Che si possa Non tendere Il campionato Che il nostro Sorpasso Domenia Sia determinante E dipende Da noi Dipende da noi Se continuiamo Come stiamo andando Nell'ultimo domenio Oppure no Ho detto Che mancano E che mancano 11 partite Tutte difficili Tutte L'abbiamo visto Domenia Vediamo risultati Che si verifiano Tutte le volte O le prime O le ultime E' un campionato E' un campionato Lo ripeto Per l'ennesima volta Molto molto diverso Rispetto all'anno scorso Fino a domenica scorsa Con la sconfitta Salinga e Monte Spaccato Si dicevano Ecco Una è andata E' andata A vincere Grossero Domenica scorsa Il terreno Quando siamo andati noi Ultimo Staccato Bisogna faccia un miracolo 9 punti In tre partite Un campionato Totalmente Direi difficile 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 Perché Non c'è un braio dubbio A dicembre Nel mercato Ultimo mercato Le squadre di fondo Classifica Tutte hanno fatto Un lavoro Credo Molto 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 Buono Retrocedere Mi sembra Che non voglia Retrocedere nessuno Le squadre Che sono Diciamo A mezza A mezza Classifica Facendo qualità Importanti Si è visto Domenica E seravezza Difficile Difficile L'ultimo terzo Dei campionato Sarà ancora più difficile Dei primi due Lo disse All'andata E lo ripeto Ancora più oggi E' una squadra Che tenta sempre Di giocare Tenta di giocare Forse una delle poi Che Si affida Il lancio lungo Sporaticamente Ora Un po' di più Do quando ho preso Il centro avanti Nel giorno Non è andata Assolutamente mai E' una squadra Che gioca e gioca E sanno giocare E tutti questi fareggi Significa che Molto probabilmente Tengano tanto Tanto Loro la palla Per questo motivo Perdono poco E domani Si potrà votare Anche il bozzetto Per il centenario Dell'Arezzo Calcio Ascoltiamo meglio Come fare In questo servizio Domenica 19 febbraio Alle 14.30 L'Arezzo Ospita Allo stadio comunale Il Ghiviborgo È una partita È una partita importante Per quello che è il proseguo Del cammino Degli Amaranto Ma non solo C'è un altro motivo Sarà possibile Infatti Conoscere I bozzetti Che sono stati Realizzati Dai tifosi Per la scelta Del logo Del comitato Per il centenario Dell'Arezzo Calcio Sono arrivati 22 bozzetti Non solo Da tifosi Aretini Ma provenienti Anche fuori Dai confini Della regione Toscana Saranno allestite Due postazioni Per poter esprimere Le proprie preferenze Una di queste Sarà allestita Qui in curva sud Proprio nei pressi Della sede Di orgoglio Amaranto E un'altra postazione Sarà allestita Qui All'ingresso Della tribuna Laterale Sud Come detto Ogni tifoso Che domenica Sarà allo stadio Riceverà La scheda Dove poter esprimere Fino al massimo Di tre preferenze E ovviamente Il suo nome Sarà registrato In un apposito Elenco In un apposito Registro Dopodiché Ovviamente Si potrà procedere Con la votazione Come detto Appuntamento Nel prepartita Finale 14.30 Momento del calcio D'inizio E poi spazio Nel corso Dell'intervallo Alla votazione Urne chiuse All'inizio Del secondo tempo E poi A quel punto Al termine Della partita Via allo spoglio De voti Per conoscere Il logo Che accompagnerà La società sportiva Arezzo Comune di Arezzo Orgoglia Maranto E Museo Maranto Nell'anno del centenario E con questo è davvero tutto Per il nostro telegiornale Vi ringrazio come sempre Per l'attenzione E vi auguro Una buona serata Arrivederci